La situazione è grave, quello che è accaduto è un fatto gravissimo, al di là proprio della dignità umana, ecco perché occorre una risposta forte e soprattutto bisogna fare emergere ciò che oggi è sommerso. È necessario che le migliaia di lavoratori irregolari che stanno nei campi nel sud del Pontino siano messi in condizioni di irregolarità. Questo è il punto fondamentale che deve unire le forze politiche e le istituzioni.